Sono Giuseppe Pino Fama, fotografo professionista, sono più di dieci anni che faccio questo mestiere e seguo diversi sport, tra cui liquidazione. Facciamo molti giri sotto il caldo, corriamo per inviare foto, fortunatamente questi staffreschi, c'è fortunatamente la mia volta un ventilatore che aiuta, il mio wifi va più che bene, riesco a inviare rapidamente, quindi sono contento, quello per me è la cosa principale, io ho necessità di inviare in live le foto, quindi avere una buona connessione è fondamentale. Avere spazi soprattutto per fotografare, perché ovviamente il percorso non è pensato per noi, noi dobbiamo adeguarci al percorso e bisogna purtroppo trovare degli spazi dove poter fotografare, per lo meno nel mio caso, più ostacoli possibili per avere varietà e diversità, perché quello che richiede il mio giornale, o i giornali per cui collaboro, o i giornali per cui collaboro, è avere diversità, perché non necessariamente la foto che io mando va bene al pezzo, va bene alla pagina, sono io che devo adeguarmi. Sono Stefano Marigliani, sono l'inviato stampa del Curie Viderbo, come giornalista, e abbiamo fatto una prima pagina sul Curie Viderbo, di presentazione allo Ginglob al Champion Tour, la mia partecipazione qua allo Ginglob è stata molto entusiasmante, mi sono provato molto bene qua nella press room, ottima accoglienza. Alessandra Zizzi per Riders Radio, l'accoglienza è stata veramente calorosa, fin dall'inizio sono stata accolta veramente a braccia aperte, la struttura è molto comoda, c'è sempre qualcosa da mangiare e da bere, e poi sempre disponibilità di documentazione, ordini di partenza, insomma tutto molto ben organizzato. Uno scenario meraviglioso, un posto bello così, forse è difficile trovarlo nel mondo, un'organizzazione di altissimo livello, per me è tutto molto molto ben fatto, un fiore all'occhiello. Sono Mauro Pisone, sono il responsabile tecnico dell'unità mobile che produce le riprese televisive del Global Champions Tour, dal 2013 che lo facciamo e di conseguenza giriamo l'Europa in nove tappe del circuito, facciamo praticamente tutta l'Europa. Location come lo stadio di Marmel for Italico, come Monte Carlo, come la spiaggia di San Tropeo, di Miami, sono tutte location di un certo livello, perché anche a Parigi sei all'interno del parco della Torre Eiffel, insomma sono tutte location molto importanti e molto belle. La squadra è composta di 22 persone, dove c'è una parte di direzione di produzione, una parte di responsabilità tecnica e di gestione tecnica dell'apparato di ripresa, e dopo di che ci sono tutti coloro i quali realizzano questo evento, inteso come operatori camere, operatori slow motion e replay, il regista naturalmente, il responsabile audio e così via. Un misto di quelle che sono le riprese dedicate allo sport, nella fattispecie la gara sportiva, l'evento sportivo, unito comunque a del glamour, del colore, eccetera, insomma. 6, attenzione 8, vai 8, 8, attenzione 7, 7, attenzione 3, 3, gratis in. Una volta che sono usciti dalla girata in avanti, vedrete che i cavalieri faranno un po' di equilibrio, perché questi oxer sono tutti molto quadrati. Mi ascoltate, vero? Questa è una bella esperienza per avvicinare i campioni e per vedere che cosa saltano, perché avere il privilegio di visitare il percorso insieme a loro e vedere veramente che cosa saltano è una cosa bellissima. Nel 1960, quello che vediamo ora qui, lo Stadio dei Marmi, era il campo prova del campo di gara che era dentro lo Stadio Olimpico e qui mio padre ha fatto la medaglia di bronzo insieme a Piero e Remondo di Inzeo, per cui, insomma, siamo molto affezionati a questo posto. Offrendoci questa esperienza, ci fanno capire quanto i cavali fatichino insieme al cavaliere e chi partecipa qui deve avere una grande preparazione per affrontare appunto il percorso. È stato un mio allievo a trovare questa iniziativa. Qui è bellissimo, insomma, cavalieri famosissimi, vederli anche da vicino durante la ricognizione è bellissimo. Nonostante sono grande, mi sono vergognata anche a chiederti un autografo. Ciao, sono Ilari Manzone, responsabile del settore Pony Asi Sport e Quest. Siamo qua oggi al Global Tour con Asi, abbiamo portato il Pony Village, è un tour di conoscenza del mondo dei pony che proponiamo ai bambini. i bimbi hanno così modo di conoscere l'animale, quindi il pony in questo caso, tramite un percorso sensoriale, di esperienza, un avvicinamento graduale, considerando il pony un vero amico e compagno di gioco. Sono Vanessa Barea, sono CEO di Safe Riding. Il Global a Roma, come tutte le altre tappe del Global, sono qualcosa di meraviglioso, sia per il pubblico presente, gli appassionati e gli intenditori, sia come cavalieri, come percorsi, come tutto. Noi adoriamo essere qui, per noi è una tappa fissa tutti gli anni, almeno Roma e Monaco siamo sempre presenti. Ciao, io sono Riccardo Fontana, responsabile del progetto Concept Store di Cavalleria Toscana. C'è il sole, c'è tanta gente, siamo contenti. Noi siamo qui come stand di Fiera Cavalli Verona, siamo molto contenti dell'organizzazione, bisogna fare i complimenti sia a Marco che a Leonora, perché loro riescono sempre, quando fanno qualcosa, lo fanno veramente bene. La location è fantastica, l'organizzazione pure, e ovviamente i cavalieri e i cavalli sono eccezionali. Quindi siamo contentissimi di essere presenti. Promuovere il mondo del cavallo non deve diventare un fatto fino a se stesso, di cui uno guardare il proprio orticello. La sinergia che c'è, si fa benissimo, anche la Fiera Cavalli, il Global, gli eventi come Piazza di Siena. E soprattutto stiamo cominciando ad ottenere i risultati che meritiamo e che fanno parte della nostra cultura. Il mio nome è Oliver, sono uno dei fondamenti di HealthFactories. Abbiamo specializzato in biotecnica. È un'amaizionale set up, comunque. Global è sempre bello, ma Roma, soprattutto con questo set up, è molto, 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 molto. Il mio nome è Charlotte Cosmos e la mia società è Cosmos Creazione. Mi piace davvero questo posto, è meraviglioso incontrare le persone e parlare con altri piatti. La città qui è eccellente. Maurizio è responsabile della Parlanti Settore Vendite, la Parlanti è produttrice di stivali per equitazione. Ottima organizzazione, efficienza, gran rispetto di chi lavora e credo che sia sempre ad un alto livello. Ci auguriamo sempre che gli organizzatori, la Lugines e quanti altri continuino sempre su Roma per non far mancare un appuntamento così importante. Ci vediamo il prossimo anno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS